Bentornati al Bera Live, oggi con noi Giulia Calvani. Ciao Bera, ciao amici radioascoltatori, siamo in un podcast però siamo anche live quindi non so dove guardare, non so chi salutare. Siamo trasversali, amici ascoltatori fa molto mic buongiorno. Sì, io sono molto nostalgica di quel periodo della televisione. Perché molti ti conoscono come amante del cinema, quindi ti chiedo già subito se sei anche amante della tv. Sono sicuramente più formata a ambito cinema, però ho seguito tanta televisione soprattutto quando ero più bimba quindi conosco diciamo le icone. Ok, tra l'altro sarà una versione un po' short perché siamo riusciti a incastrare questa intervista. Come dicevi prima la legge di Murphy. La legge di Murphy. Esatto, perché quando tu cerchi di incastrare le cose e magari una cosa è un pochino fuori posto, poi effetto domino succedono tutte altre cose che non sono mai successe. Vabbè noi siamo per il quality time. Esatto, meno ma più. Eh sì dai. Senti, intanto, visto che sei, te lo dico, ma non per garanteria spicciola, ma sei per me un ospite importante e poi spiego anche come ti ho pescato, come ti ho riconosciuto. Pensavo di non farti un'intervista ma di farti fare un balletto, uno a caso. Ma quello del qua qua? Ma bellissimo. Saresti contenta? Ma assolutamente. Tanto non è un mistero che ovviamente questa intervista è registrata e poi uscirà e noi siamo proprio postumi, tipo una sbornia, perché è stata una sbornia. Secondo me è stata una specie di allucinazione collettiva. Non è successo. Non è mai successo, ma ce lo siamo immaginati tutti. Può essere, può essere. Vabbè non ti chiedo pareri, però rispondi con un'espressione. Ecco, visto che si parla di Sanremo dei meme, fammi una faccia da meme per giudicare questo quacquadense. Questa qui, sì, sì, usatela, fate ciò che vuole. Verrà screenshotata. Vabbè, è curioso raccontare come ti ho pescato o come ti ho ripescato, perché ovviamente per chi segue il web, insomma le dinamiche, il mondo dei creator, sei un volto noto. Però sai, un conto è quando uno lo guarda sempre sul telefono, sul computer, un conto è poi ritrovarselo per strada, no? Hai sempre quell'attimo in cui dici, ma io questa persona l'ho già vista da qualche parte, no? Sì, sì. Ti succede spesso, ma dov'è che ti ho visto? Ti succede? Molto spesso, mi è successo tante volte a Venezia. A Venezia? Sì, perché è un contesto nel quale comunque ci sono persone che frequentano il mondo del cinema e persone che invece stanno un po' nelle retrovie, no? Quindi mi è capitato spesso di vedere persone che conoscevo e che mi conoscevano, ma non c'era quella mancanza di filtro che poi permetteva di incontrarsi. Quindi sì, è capitato qualche volta. Quando vieni riconosciuta, è una cosa che ti piace? Perché sai, c'è questa cosa che i creator ambiscono alla popolarità, no? I follower, insomma, il pubblico, l'audience. Però poi sai, un conto, ti ripeto, è stare dietro a un telefono e poi avere il discontro effettivo per strada. È una cosa che ti imbarazza, ti piace? Ma imbarazza per niente. Zero? Per niente. Io ci sguazzo veramente tanto, ma perché mi piace tanto conoscere le persone già di mio, a livello umano. Poi io mi sorprendo ancora di questa cosa perché nel mio piccolo, perché rispetto chiaramente a dei creator che sono sulla piattaforma da tanto tempo, fa un po' contrasto. Tu da quanto tempo sei sui social? Ma attivamente, onestamente, un mese. Come un mese? Ma la gente ti conosce da un sacco. No, nel senso di attività precisamente mia, che sto cercando di curare e coltivare, un mese. Però sono sui social e soprattutto in piattaforma dal 2017, quando ho iniziato con Davide. Ok. Che uno adesso dice, vabbè, se fai social sicuramente è una cosa che gli piace, però non sempre detto, no? Perché i social sono stati anche nel tempo una risposta per chi aveva qualcosa da comunicare e non riusciva perché poi o andavi in tv o andavi alla radio, ma poi non dipende da te. Invece il social, il web dipende solamente da te. Però ci sono vari pro e contro. A te piace il mondo del web o è una cosa che usi come trampolino per poi sperare di andare in tv, radio, eccetera, eccetera? Allora, il sogno della mia vita, quello che proprio conservo da tantissimo tempo, è quello di fare la presentatrice. O meglio, autrice e presentatrice. Mi piacerebbe avere un mio programma, essere autrice di quel programma, chiaramente insieme ad altre persone che contribuiscono alla Writer's Room. Mi sono formata da sceneggiatrice e da giornalista, quindi comunque la formazione letteraria è quella. Però mi piace anche molto metterci la faccia, solo che siamo in un contesto un po' più trasversale adesso con i media, quindi abbiamo tutti tanto da dire, abbiamo un solo supporto o comunque, diciamo, internet più in generale, piuttosto che televisione o cinema, che sono appunto dei settori un po' diversi in cui mettere il piede. Internet è un po' la voce di tutti, è un po' la voce del popolo, quindi anche i creator si trovano in difficoltà, soprattutto in questo momento, perché abbiamo tante cose da dire, siamo tanti e devi trovare un taglio intelligente o comunque diverso per dare la tua. Che poi io invito ovviamente tutti, non ce n'è bisogno, ma a seguirla, perché poi non parla solo di cinema, parla di tante cose, è simpatica, è divertente, adesso si sta anche stabilendo in casa nuova, quindi divertentissimo vederla a casa nuova, ma tra l'altro tu ti sei scelta un argomento che polarizza molto, no? Perché il mondo del cinema, a parte che tutti sono esperti di cinema e nessuno lo è, però per quelli che poi sono esperti, che sono proprio appassionati, proprio la si vive con una certa passione. Intanto, ve lo dico, io vi odio tantissimo. Sì, tanta apprezzione, mettiamo tanta apprezzione. Intanto, quando un esperto di cinema incontra uno che non sa niente, cominciano quelle domande proprio per cercare di, posso dire, di smerdarti, no? Ma tu l'hai visto, qual fiction? Che poi non vai sui film, sai, quelli là un po' difficili, dici, probabilmente non l'hai visto, no, proprio sui grandi classici. Sì, sì, è vero, è vero. E poi ci godete nel... ma allora ti manca un pezzo di vita. Guardi, io sono molto buona però in realtà, cioè mi è capitato spesso di avere conversazioni, forse perché anch'io un pochino odio quel mondo un po' tossico del nostro mondo critico. Perché è un attimo che passate subito da intellettualoidi, no? Sì, ma infatti è molto fastidioso. Proprio in questi giorni, tra l'altro, un'altra creator, Valentina, sta portando avanti questa battaglia perché in merito poi a tutta la questione Oscar, nomination ed esclusi, sì, in un certo senso un po' profilata, no? Questa divisione tra mondo della critica, tra persone che fossero pro o contro la decisione dell'Academy e quindi c'è stata questa polarizzazione anche un po' tossica di alcuni esponenti, diciamo, della critica più feroce che chiaramente mettono un po' in secondo piano tutto il resto delle persone che si propongono a parlare di cinema. Questa cosa io onestamente non penso di averla mai fatta, ma perché vi svelo questa cosa anche io ho delle cose che non ho mai visto, non so se le rivelo entro la fine dell'intervista, però c'è qualcosa che non ho visto. Ci puoi dire, non so se ci vuoi dire, ce lo dici? Un film che non ho mai visto. Però di quelli la proprio grandi, i classici, no? Che uno dice, sai, non ho mai visto Jurassic Park. No, vabbè, Jurassic Park è impossibile non vederlo perché danno sempre su rete 4, quindi comunque ci finisce. Tipo Il Signore degli Anelli, Harry Potter. Questi no, l'ho visti tutti. Guarda, più che altro sai qual è il fatto? Il cinema forse retrodatato. Ecco, ci sono dei grandi capolavori di Monicelli, di risconti che magari uno si è perso, no, per strada. Quindi sicuramente anche noi critici non abbiamo visto tutto. Poi posso dirti una cosa? Alcuni film uno li deve, secondo me, ripescare nei momenti giusti della vita. Perché se poi ti obbliga a vederli, perché magari studi, cinema, magari sei molto giovane, alcune cose per esperienze, per cultura, magari non riesci a valorizzarle. Invece nel tempo poi magari rivedi un film e dici, caspita, ma questo regista era un genio, era visionario, no? Perché hai una visione, diciamo, più completa della realtà delle cose. Senti, ma perché hai deciso a un certo punto da vedere un film e anche magari parlarne con gli amici sempre, no? Però poi a creare il contenuto sui social e se non ti ha spaventato l'idea di essere giovane, a parlare di cinema, che il cinema è fatto sempre da, non mi fa dire una parola, da adulti. Ma cariati? Esatto, l'ha detto lei, l'ha detto lei. Sì, sì, sì. Se non ti ha spaventato questa cosa. In più aggiungiamo, scusami, è brutto da dire, però anche il fatto di essere donna, lo sai che siamo in una società in cui quando una donna ha un'opinione è sempre sbagliata a prescindere, è opinabile. Guarda, su questo devo dire che sono stata un po' spalleggiata e mi hanno aperto la strada delle creator, delle ragazze e poi donne, perché insomma sono cresciute con questo mestiere che fanno un lavoro incredibile e per cui io provo veramente sincera ammirazione. Il mondo che c'è dietro è un mondo iperfrenetico di persone che non posano mai la penna, vanno sempre in giro con questi cavi e zaini che attaccano ovunque, nei festival chiaramente questa cosa è amplificata, però veramente provo una stima incredibile per queste persone. Quindi fortunatamente mi sono inserita in un mondo dove già avevo delle icone. Sono partita con le dei giornaliste, con Eva Carducci, con Valentina Riete, Gabriella Giliberti, quindi insomma avevo una reference molto consistente. Per quanto riguarda invece l'intervento e l'impatto dei social è arrivato più o meno periodo pandemia, perché io chiaramente già scrivevo, amavo il cinema, ho sempre amato il cinema, solo che ho avuto l'occasione anche di incontrare persone che facevano lo stesso mestiere o comunque ambivano a farlo. Ed erano persone che parlavano di cinema sui social, più prevalentemente chiaramente su YouTube, su Twitch, che era una piattaforma che durante la pandemia si è proprio nutrita delle persone che avevano voglia di stare ad ascoltare, anche gli sconosciuti talvolta. Quindi ho iniziato con delle sfide, dei duelli cinematografici. Bello! Sì, molto carino e sul canale di un mio amico Antonio. E come si componevano questi duelli? Erano dei duelli in realtà incentrati sul tema degli Oscar, come se fosse una sorta di dibattito, quindi non era domanda risposta a livello culturale, non c'era nessuna risposta corretta. Si doveva argomentare, sulla base di una domanda che ti veniva fatta, quale fosse il miglior film o quale dei tre candidati avrebbe dovuto vincere l'Oscar e perché. Quindi era anche stimolante perché in un certo senso non era elitario, non era esclusivo. Tutte le persone avrebbero potuto portare a casa il risultato, tant'è che ai tempi io vinsi contro Michele Innocenti, che è il massimo esperto in Italia degli Oscar. Caspita! Semplicemente perché magari a livello di dibattito... Hai fatto così? Poi siamo molto amici, nel senso che quello è stato... Però una volta tanto! Sì, lui c'è rimasto anche un po' male, perché giustamente dice io sono il più grande... Vuoi chiedere scusa per la vittoria? Ma neanche un po', gli mando un bacino. Un bacio, un bacio. Però sì, insomma, è stata proprio la pena del contrapasso, diciamo, di una cultura anche un po', come ti posso dire, conoscitiva e informativa, piuttosto che di dibattito. Quindi sì, mi sono avvicinata così al mondo dei social e poi chiaramente dal 2017, quando abbiamo cominciato a fare queste recensioni con Davide, che hanno avuto un successo imprevisto, almeno in quel momento. Poi Davide ha fatto anche altro, io invece mi sono stabilizzata un po' sul cinema, su quello che era il mondo della critica, però è stato difficile il pensiero di dover sempre sfornare dei contenuti. Ok. E oltre al cinema, che poi è la tua passione principale, diciamo, possiamo dire, il 70% dei tuoi contenuti, però c'è un 30%, no? Sì. E noi siamo curiosi di sapere qual è l'altro 30%, cioè quali sono altre passioni o cose di cui parleresti anche in futuro? Ah beh. Tipo, magari, bricolage, gatti. Allora, gatti sicuramente, chi ormai segue il profilo, il mio profilo è circa, c'è proprio immerso nel mondo. Io ero veramente, ai tempi, tanti, tanti anni. La gente, scusa di ti interroppo, non vede, ma c'è un'altra persona. Sì. Quindi con un'espressione soltanto chiedo come hai preso questo aspetto da, insomma, da gattara. Come ho preso questo aspetto? Io, appassionatissima del mondo canino, ho avuto un cagnolino per tanto tempo, poi quest'anno, due mesetti fa, è arrivato questo piccolo ciccio d'amore. È quello, è quello. Che si chiama Anakin. Ah, caspita. Quindi, insomma, diciamo, mondo cinema, siamo segnalati. Vediamo l'espressione di uno che deve sopportare una gattara. Qual è? È lui il gattaro. Ah, tu sei... Ah, io ho pensato... No, ah, capito, c'è stato un... No, io ero allergica. Ah, avevo capito il contrario. No, no. No, tu da, insomma, amante, appassionata di cuccioli di cane, sei arrivata ai cuccioli di gatto. Ah, sì. C'è stata questa trasmigrazione dell'anima, però, devo dire, sono molto contenta. A parte i gatti, nella vita canto. E questo, ecco, è la cosa divertente, è che io l'ho ripescata mentre cantava. In una situazione, non so manco se lo possiamo raccontare. Sì, ma penso di sì, dai. Comunque, lei ha a che fare con tutta quella... Posso dire, giostra mediatica, perché è proprio... Sì, è un varietà. È un varietà. Al mattino alle sette, che è quello di Fiorello, Vivare ai due, e oltre lei a lavorare, ovviamente, dietro le quinte, no, la produzione, però, avendo questo talento, gli ha detto un giorno, oh, Fiore, guarda che io canto. E Fiorello non ci ha pensato un attimo a metterla davanti alle telecamere. Sì, è stato molto divertente perché è stato uno dei suoi collaboratori, scherzando tra l'altro la puntata in cui venne Anna Lisa. Ok. Era con questo disco di platino in mano e ho fatto lo scherzo di darmelo. E io ho fatto, beh, magari. E fa, vabbè, ma perché? Ma mica canti? E ho fatto veramente. Veramente, in effetti. Veramente canto. Ma l'ho detto in maniera un po' spontanea con una persona che era lì a lavorare. Il giorno dopo mi sono trovata la mattina alle quattro e mezza perché chiaramente è tutto in anticipo. Già arriviamo alle cinque dovevi stargli alle quattro e mezza. È stato molto bello come intervento anche perché, vabbè, lui mattatore, showman. Certo. Poi ogni giorno è una sorpresa. Cioè, non sai mai cosa ti aspetterà. Ti piace più stare davanti alla camera o dietro? Davanti. Davanti? Ma sì, ma cento volte sì. Ma perché so che comunque c'è... Allora, potendo scegliere, adesso ti faccio delle domande terribili, potendo scegliere tra un lavoro stabile e fisso dietro alle telecamere e uno magari, capito, a mozziche e bocconi come si dice a Roma. Insomma, davanti? Cosa scegli? Ma guarda, penso che tutta la mia carriera ti possa rispondere. Avrei potuto in qualsiasi modo, in qualsiasi momento scegliere di mettere le gambe sotto una scrivania e chiaramente c'è dignità in qualsiasi tipo di lavoro. Certo, vabbè, sono poi... Per come sono fatta io non riuscirei a fare la stessa cosa per più di sei ore, penso. Quindi ho sempre bisogno di stimoli... Cioè, più una questione di routine lavorativa, hai bisogno di stimoli perché in fondo sei un artista e quindi l'artista poi ho bisogno sempre di essere stimolato, di respirare un po' quell'aria lì, anche di cambiamento, di ricerca. Però, sai, canto, cinema... Sai, quelle domande terribili però vanno fatte perché devo in qualche modo metterti in difficoltà perché tu hai questa impostazione che sembra che hai le risposte a tutto. No? Cioè, io ti vorrei chiamare per qualsiasi problema della mia vita. Pronto, terapeuta! Sì, perché hai proprio anche il tono della voce meraviglioso, quindi ti mette proprio a tuo agio. Bene, grazie. Sì, ovviamente sei molto radiofonica, tieniti libera per il futuro. Ecco, potendo scegliere tra canto e magari avere anche, che ne so, una posizione di tutto rispetto nel mondo della critica cinematografica, anche davanti, eh, per dire. Però dovendo scegliere, sai, perché se uno avvia una carriera da cantante, ma cantante proprio di successo e non puoi fare altro, non ce la fai, è difficile. Tu cosa sceglieresti? Allora, io vorrei avere... In senso che poi ci si gioca la fanbase subito, eh? Vorrei avere la possibilità di inserire quello che sono io mentre canto quando sono dietro o davanti alla macchina da presa. Cioè, quell'emozione che io sento mentre canto, che anche con la regia qui dietro spesso definiamo duende, no? Questa specie di demone, di mostro che ti cresce dentro. Io vorrei riuscire a trasmetterlo attraverso la scrittura nel caso in cui avessi l'opportunità di farlo o eventualmente anche davanti alla telecamera se avessi la possibilità di presentare qualcosa o anche di metterci la faccia essendo, ecco, una figura avendo un ruolo magari da cantante. Hai degli inediti tuoi? Perché ridi? Sì, perché ogni tanto ci penso. C'è la mia collega della RAI che saluto, Marta, che ogni tanto mi dice ogni volta che ti chiedo qualcosa sembra che tu l'abbia già fatta, no? E poi magari sei giovane perché comunque 27 anni pensi che troppe cose avrei da vivere e poche tu ne abbia dietro. Invece io ho vissuto tante cose, tante cosine piccoline nel corso della vita quindi alla fine mi rendo conto di aver fatto anche quello solo che non è quello che faccio adesso e guardo indietro con tanta nostalgia e tanto cuore. E quanti inediti hai pronti, preparati poi magari vanno arrangiati sistemati bene però proprio scritti? Ma 4 o 5 4 o 5? Sì, perché ho fatto un'accademia qualche anno fa che poi chiaramente insomma per divergenze di vertici si è separata quindi sono diventate due sedi però era l'Accademia Spettacolo Italia che è a Roma e tra l'altro insomma dei produttori molto importanti famosi che ci avevano dato una mano importante anche ad arrangiare i brani quindi il primo che ho scritto tra l'altro l'ho inviato anche a Fiorella Mannoia Ah caspita che tra l'altro poi si è esibita anche a Vivare i Due quando tu vedi tutti quei cantanti famosissimi passare proprio a un metro da te intanto ti chiedo una domanda un po' stronzetta c'è qualcuna o qualcuno che magari erano dei miti per te e poi vedendoli dal vivo dici po' ma c'è qualcuno che ti ha deluso ti è dispiaciuto? Allora miti miti assoluti no nel senso che poi comunque alla fine sono sempre figure umane dietro dei personaggi quindi tendi anche un pochino a comprimere la cosa però certo sicuramente alcuni sono stati più affabili di altri Ok e quella che ti ha colpito maggiormente o quella in cui sai a volte gli artisti hanno un momento in cui di come si chiama depersonalizzazione quindi si visualizzano magari o nel corpo o in un momento futuro qualcuna che hai visto ha detto caspita io vorrei essere lei o vorrei essere come lei Ah allora essere come lei ancora non è non è capitato almeno nel programma nel senso che poi comunque sono interfacciate parecchie figure del mondo televisivo una persona che mi ha positivamente sconvolto Chiara Gagliazzo Ah ok è stata veramente molto molto carina con noi e non è mai mancata una parola buona per chi la seguiva in quel momento quindi invece sai che mi ha colpito che io non che sottovalutavo sì forse un po' sottovalutavo però vedendola dal vivo l'ho riscoperta ed è stata Noemi Ah sì 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 nel senso è una bravissima cantante però ecco vederla dal vivo poi alcuni artisti riescono a trasmetterti emozioni vere proprio dal vivo più che poi da uno schermo sì sì totalmente senti ti esibisce ogni tanto purtroppo ultimamente no ma perché tantissimo a parte ecco queste queste brevi sporadiche apparizioni c'è stato veramente poco tempo per continuare su quella linea però per esempio lo scorso anno c'è stata l'occasione dei Boscar che è stata un po' la sincronia di tutto ah beh c'è molto caspita caspita sì quello speriamo incrociamo le dita speriamo di rivederci a breve è stato un evento incredibile poi tu veramente sei amica 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 di una cintura nera del mondo insomma del podcast delle interviste dello streaming sì ed è bello anche che lui ti sostenga così tanto no con tra l'altro ragione nel senso che tu veramente sei talentuosa quindi è bello vedere quando una persona ti sostiene in tutto e per tutto molti sono curiosi di conoscere perché si vede proprio che siete tanto amici sì è una cosa è una cosa che passa forte è bello però non ho ancora capito se hai imparato le regole del lupus a giocare perché questa cosa potrebbe anche interrompere delle amicizie ma io penso che Davide mi abbia chiampato perché è stata una coincidenza di eventi secondo me perché dovevamo registrare insomma la recensione per Poor Things mi fa vabbè dai subito dopo andiamo a fare lupus io lì completamente che tu pensavi fosse una malattia lupus sì totalmente io non avevo penso veramente mai visto giocare davvero delle persone loro sono bravissime cioè si accaniscono proprio giustamente hai visto quanto diventano cattivi cioè tu dopo che giochi a lupus che è un gioco per chi non dovesse saperlo è un gioco come si dicono questi qua di ruolo sì penso di sì però ha qualcosa della malattia psicologica perché tu devi proprio fingere devi tradire le persone cioè si interrompono amicizie tu dopo che finisci di giocare dopo una sessione di lupus non credi più a nessuno no io non ci capivo più nulla c'è stato un momento in cui credo alla fine della prima manche io mi sono guardata intorno perché avevamo vinto stranamente e avevo fatto qualcosa che non aveva messo in crisi la mia squadra ma non avevo capito perché quindi alla fine erano tutti contenti brava sì hai imparato ma hai imparato cosa io non so dove sono in questo momento non so dove mi trovo quindi poi la seconda la seconda manche si è vista totalmente che ero persa come un posto fisso al Cerbero Podcast per dirti non glielo vogliamo dare a questa mi posso far posso farti da manager da promotore ma guarda loro sono pazzeschi sono pazzeschi così io penso e qui tra l'altro c'è la prima persona a cui lo dico comunque su qui nel programma riesco a dispormi su questa cosa con Davide c'è un rapporto che funziona così tanto perché non c'è mai stato l'interesse di di sfruttarsi cioè io credo veramente tantissimo a parte oltre umanamente come persona è una delle persone più buone che conosco ed è mio fratello da tanti anni ormai è come se veramente fosse una cosa di sangue non serve sentirsi tanto tempo questa cosa che dice è stupenda perché soprattutto nel mondo forse meno web meno social ma ad esempio abbiamo l'esperienza che viviamo tutte le mattine di quella televisiva vediamo quanta gente si avvicina per interessi e a un certo punto tu non capisci più se quella persona ti è amica per un motivo o per un altro e io ho sempre pensato che quando poi ti capita di essere amico o amica di qualcuno che ha un successo una visibilità lui ti conosce sa chi sei e sa che il momento in cui avrà bisogno di te sarà la prima a essere chiamata forzare le cose poi è brutto perché instilli poi il dubbio che forse tutta questa amicizia sincera non c'è non pensi io penso che il grande regalo che ci siamo fatti in questi anni in cui chiaramente ha avuto un successo clamoroso il Cerbero ma anche lui come persona il più grande regalo che ci siamo fatti è stato quello di mantenerci così come eravamo nel 2017 quindi quello di ascoltarci degli appuntamenti fissi per poter parlare e poi magari si ci scappava la recensione perché ci piace lavorare insieme c'è un buon feeling ci vogliamo bene quindi senti c'è qualche consiglio che lui dà a te e qualche consiglio che tu dai a lui sul piano umano tantissimi Davide mi ha veramente insegnato tanto anche semplicemente come etica del lavoro è un instancabile molto spesso stacanovista è molto stacanovista però anche tu mi pare di capire sì infatti fortunatamente siamo in due ambiti sui quali possiamo darci dei feedback reciproci e lui mi ha sempre detto comunque di insistere ma mantenere un po' una coerenza di fondo cioè giustamente di non svendersi per seguire un po' la scia no? è certo anche per mantenere l'hype perché poi a un certo punto uno cambia anche temi o è la ricerca sempre del contenuto e poi soprattutto quello che ci siamo chiaramente dati insieme crescendo forse è quello di evitare di pronunciarsi quando non si conosce un argomento questa è una cosa che ho imparato da lui tanti anni fa perché seguivo le sue monografie questa tu la puoi rimbalzare a tutti quelli che ci ascoltano perché siamo nel momento nel periodo in cui tutti sono costretti ad avere per forza un'opinione ma non ce l'obbliga il medico quindi uno può anche attendere può anche sospendere la valutazione senza vomitare le parole sui social e cercare magari di informarsi di ascoltare più fonti di prendersi i propri tempi no? sì che poi è giusto avere un'opinione anzi a maggior ragione i social o comunque internet ci aiuta un po' ad esporci a prenderci una piccola porzione di spazio però quando non si conosce qualcosa forse sarebbe bene informarsi prima sarebbe una cosa che potrebbe aiutarci come società poi comunque possiamo dire la nostra però almeno partendo da una base di qualità di conoscenza e qualche consiglio che tu dai a lui? io più sul piano umano sì diciamo lui è una persona veramente instancabile che dedica tantissimo tempo al lavoro e che ascolta molto estranamente tutti i pareri e giudizi che arrivano quindi quello che gli do spesso è quello di filtrare un pochino quello che arriva dall'esterno e concentrarsi sulla potenza incredibile che ha lui come persona vedi che bisogna chiamarla ogni tanto Giulia crea una linea telefonica io ho la mia posta del cuore quindi ecco vogliamo chiudere dicendo quali sono i contatti per la posta del cuore allora tutti i venerdì sulla mia pagina sul mio instagram sulle mie storie trovate la box potete anche chiaramente mandarmeli in anonimo perché si sa insomma quel fatto di questione di cuore è sempre un po' più difficile e eventualmente mi scrivete un messaggio in direct e io vi pubblico il reel verso la domenica a parte la posta del cuore che tra l'altro mi fa ridere pensare che davanti a casa tua c'è proprio la cassetta delle lettere fatta a tema col cuoricino esattamente così no mi chiedevo se hai progetti imminenti non progetti futuri quella è la domanda che fanno tutti classica banale no non ci piace ma progetti proprio adesso per il presente qualcosa in uscita intanto vi dico che il 14 febbraio perché l'amore va celebrato tutti i giorni in qualsiasi forma tu sei pro contro San Valentino io sono in realtà quando hai la fortuna di amare e sentirti amata in qualsiasi forma in qualsiasi declinazione diventa un giorno come gli altri è agnostica quindi sì non mi pronuncio proprio per questo stiamo portando avanti un format che sicuramente se mi seguite o se mi seguirete vedrete nel feed un format che avevo in mente da penso sette anni si chiama Amatricine bello a che è venuto perché Amatriciana è il mio piatto preferito della tradizione romana che sai mangiare soltanto o che sai anche cucinare so anche cucinare so anche cucinare la Amatriciana la so cucinare tutto il resto lo faccio fare alla regia alla regia che è sicuramente molto più bravo di me in cucina com'è questa Amatriciana? la Amatriciana sua ha un buon piatto dai un buon piatto potevi dire qualcosa di più un buon piatto un buon piatto non ti vuole dare soddisfazioni incredibile no ma perché la cucina è una cosa sua quindi lo capisco almeno ho dato il titolo alla rubrica che voglio dire tu il titolo non l'hai trovato lui ha trovato quello di me di cinema è assurda questa cosa però vedi questo rapporto è abbastanza equilibrato è prolifico sì è sicuramente prolifico e è questo format molto divertente perché ci divertiamo poi fondamentalmente in cui ricreiamo delle ricette che abbiamo visto nel mondo del cinema delle serie tv e ricreiamo queste ricette e diamo un po' un feedback su come è cucinare queste cose nella quotidianità quindi caspita una volta c'erano i profili di coppia adesso fino a lì non ci arriviamo no noi non siamo come Giovanna e Ama noi siamo un po' però potresti diventare come di me contro te o magari come Camio Caimone che sono un po' diciamo più e chiedo a te per interposta persona sappiamo che è un attore quindi sai gli attori poi di un certo tipo hanno sempre questa spocchietta ma poi è toscano è toscano quindi ancora bene nel senso c'è proprio la repulsione la battuta pronta come insomma secondo te come ha preso questo mondo tuo se c'è qualcosa che tu stai prendendo invece dal mondo suo lui è una grandissima spalla a livello umano oltre che relazionale e se questo mese l'abbiamo portato a casa e ci sono stati questi numeri lo devo veramente tanto a lui al fatto che abbia creduto e mi abbia spinto a proseguire su questa linea perché è veramente in prima linea come fan e sostenitore quindi io penso di di averne aver solamente vinto in questo senso e spero di essere una spalla altrettanto perché un attore gli auguro una carriera incredibile quindi occhio a fine febbraio quando fai i provini li fai da spalla è capitato una volta per una pubblicità ma in maniera molto imprevista una pubblicità stai attento che ti ruba il lavoro quando fai il provino insieme a te prendono lei però è stato molto simpatico è stato un mettersi in gioco in qualcosa che non avevo mai fatto perché ecco la recitazione è una cosa che ho sempre raccontate i gran pavesi schiva è stato molto divertente questa cosa perché l'ho accompagnato a Firenze a fare un provino per i gran pavesi per i tocchetti i gran pavesi lui era in fila a un certo punto arrivano questi due tizi che mi guardano io ero vestita con i jeans sono molto casual e mi fanno senti ma ma tu sei qui per il provino ho fatto no ho detto io sono la compagna di Bocconi ho detto resto qui vi aspetto mi fanno no no entra entra perché sembri sembri una liceale comunque ok entro lui mi guarda arrivare e mi fa ma che ci fai tu qui bellissimo e guarda mi hanno fatto entrare un po' arosicato a me ma secondo me un po' sì ma più che altro perché si dilungavano i tempi nella prossima puntata adesso dobbiamo chiudere perché devi correre da un'altra parte ma vi intervistiamo insieme sì perché adesso avete detto tutta una serie di cose molto romantiche molto dolci e nel momento di San Valentino questo rischia anche rischio di abete no sì allora per abbassare la glicemia voglio sapere anche delle cose brutte cioè bisogna anche normalizzare questa coppia sennò sì sì no ma siamo siamo una coppia on fire discutiamo come tutte le coppie normali e anzi a volte questa cosa unisce quindi ci vediamo alla parte 2 Giulia davvero grazie di cuore di essere venuta qui 3000 per i pezzi abbiamo registrato questo podcast che possiamo definire un trailer ecco per rimanere con il linguaggio cinematografico di qualcosa che verrà in futuro più lungo quando vuoi insomma ormai sei di casa grazie e nel frattempo come si fa nel nostro mondo nel nostro gergo per augurare per fare un in bocca al lupo ti dico merda 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 it shit ciao ciao